All'inizio della mia carriera o quando ho cominciato ad appassionarmi ai rally non riuscivo a capire come mai i piloti nordici, i piloti scandinavi andassero più forte dei piloti italiani o dei piloti latini in generale. Pensandoci bene, loro guidano per 6 mesi all'anno su fondi innevati o veramente scarsa aderenza, quindi probabilmente il loro segreto per andare forte su tutti gli altri fondi era quello di guidare per tanti mesi all'anno con pochissima aderenza o sulla neve. Con il mio navigatore Tiziano la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo preso una vecchia macchina, abbiamo messo 4 gomme chiodate e passavamo le serate d'inverno in montagna sulle strade innevate a fare esperimenti e cercare di medesimarci nella guida di vari Vatanen, Rurl e Allen che per allora erano i nostri idoli. C'è una cosa importantissima che abbiamo capito e che voglio anche trasmettere a voi, sulla neve si impara a guidare perché essendoci poca aderenza qualsiasi manovra che fa il pilota, qualsiasi correzione di traiettoria la fa a bassa velocità perché logicamente la vettura non prende alte velocità come sull'asfalto e quindi facendo queste traiettorie e queste modifiche al proprio stile di guida lo si fa a rallentatore, quindi un pilota ha tempo di capire esattamente come la macchina reagisce a dei movimenti delle braccia. Perciò per andare forte anche sullo sterrato l'allenamento migliore è imparare ad andare, tra virgolette, piano sulla neve. La tecnica di guida sulla neve come nelle altre discipline, come negli altri tipi di fondo o come con gli altri tipi di vetture dall'anteriore alla posteriore alla quattro ruote motrici è abbastanza particolare. Sulla neve bisogna essere molto più dolci in qualsiasi manovra, cioè la frenata deve essere più dolce, la controsterzata o il cambiamento di direzione deve essere fatto con un movimento molto più rilassato, molto più soave, tra virgolette. Qualsiasi tipo di manovra deve essere fatta come una danza. Vedendo le immagini vedete che le macchine sbandano a destra, poi sbandano a sinistra e non lanciano pietre, non lanciano sassi, non fanno polvere. Anche il rumore delle ruote sul fondo non spara a ghiaino sulla scocca e quindi anche all'interno della vettura c'è molto più un rapporto di ovattato, di rumore tra pilota che guida, rumore dell'automobile e navigatore che legge le note. Non si sentono rumori dall'esterno che arrivano. E il comportamento della macchina è molto e molto più sincero. Sembrerebbe un controsenso questo, però guidare sulla neve di traverso dà molto di più la sensazione di condurre la macchina in una danza. Quindi bisogna veramente sentire la macchina che sbanda e accompagnarla dolcemente col gas. Mentre sullo sterrato, abbiamo detto, bisogna essere molto brutali nell'accelerazione, nei colpi al freno, nei colpi al pedale. Sulla neve bisogna proprio avere quasi un uovo sotto la pedaliera e cercare di fare la manovra senza romperlo. Le tecniche di guida sono molto simili allo sterrato, anche se fatte molto più dolcemente, quindi bisogna anticipare la curva. Bisogna fare il pendolo sia avendo una trazione anteriore che posteriore che quattro ruote motrici. Logicamente con l'anteriore la macchina avrà un forte sottosterzo, quindi all'uscita della curva bisognerà essere abbastanza determinati nell'accelerazione. Mentre con le due ruote motrici a trazione posteriore bisognerà con il gas accompagnare e fare in modo che le ruote posteriori con la trazione e il pattinamento facciano sbandare la macchina e con il gas si gestisce proprio la derapata. Abbiamo delle immagini bellissime di queste macchine in controsterzo, quindi con le ruote anteriori che seguono la curva della strada e quelle posteriori nella posizione estrema della curva che seguono il bordo esterno della strada, quindi quasi una spazzolata continua. E poi abbiamo le quattro ruote motrici dove, come sullo sterrato ma sulla neve è ancora più evidenziata la cosa, avranno quasi sempre le ruote nella stessa direzione, quindi le ruote anteriori e le ruote posteriori sempre nella stessa direzione, all'interno della curva, a metà curva e guardando sempre l'uscita della curva e il rettilineo successivo. Grazie a tutti!